La serata si svolgerà con un intervento di Paolo Maddalena, poi le organizzazioni e poi le amministrazioni che hanno onorato questa serata con la loro presenza. Io vorrei introdurre brevemente Paolo Maddalena, servitore dello Stato per 40 anni, 60 anni, prima alla Corte dei Conti poi alla Corte Costituzionale, promotore di questo percorso, attuare la Costituzione, ma come non tutti sanno, soprattutto la persona che ha scritto, il giurista che ha scritto le pagine più importanti del diritto ambientale di questo Paese, ma in realtà dell'intera Europa. Quindi è con immenso piacere che io passo la parola a Paolo Maddalena, Vice Presidente Merito della Corte Costituzionale. Grazie, grazie al Sindaco, grazie a tutti gli intervenuti. Scusate se la mia voce è un po' flebile, io esco da un'influenza, sono venuto però con... Ecco adesso si sente, ringrazio tutti, ringrazio il Sindaco per questa splendida lezione che ci ha fatto di diritto costituzionale, lui che è un ingegnere, ringrazio tutti gli intervenuti e dicevo mi scuso se la mia voce è un po' roca, se porto il pullover, se mantengo il cappello, perché esco da un'influenza terribile che quasi quasi mi impediva di venire, ma tenevo moltissimo a venire qui. Sicuramente noi ci troviamo di fronte a un disastro locale per quanto riguarda quello che ho sentito sulla TAP e su altre cose, ma questo disastro è nazionale. E vi devo dire che io, che sono nato studioso del diritto romano, ho fatto una libera docenza in diritto romano, quando sono uscito fuori dal... ho terminato il mio mandato alla Corte Costituzionale, volevo tornare agli studi prediletti di storia del diritto romano, ma vedendo il disastro nel quale ci hanno buttato i nostri insipienti governanti, io ho sentito il dovere di studiare perché siamo in questa situazione, perché oggi si accetta che l'Italia sia percorsa da un condotto che serve non all'Italia, ma serve all'Europa del Nord. Ma che cosa ci danno in cambio queste persone? Ma dov'è l'interesse italiano? È vero che Bassanini nel titolo quinto della Costituzione ha commesso il gravissimo errore che gli imputo sempre e gli imputerò sempre di val tolto di mezzo l'interesse nazionale. Ma noi, la Corte Costituzionale, l'abbiamo riemessa in sesto l'interesse nazionale. Nella Costituzione c'è l'interesse nazionale, nonostante le contraddizioni del titolo quinto di Bassanini e nonostante l'introduzione di quell'orribile articolo 81 modificato da Monti, senza che nessuno sapesse niente che introdotto il principio del pareggio di bilancio. La sovranità appartiene al popolo, recita come avete sentito l'articolo primo della Costituzione, se qualche giornalista dice il contrario riveda bene, rilegga bene cosa dice la Costituzione. Questa parola appartiene fu trovata da, se si leggono i lavori preparatori, questa parola appartiene al popolo, fu trovata da Moro, fu suggerita a Fanfani e Fanfani la mise in Costituzione. Ci fu una lunga discussione su questo argomento. Il popolo è sovrano e guardate che la Costituzione non solo prevede l'organo legislativo, il Parlamento, perché è chiaro che tutti i cittadini hanno da fare le loro cose e nessuno si può dedicare notte e giorno al governo del Paese, ma prevede anche che ci sia un governo dei cittadini, prevede la partecipazione popolare. L'articolo 3 della Costituzione dice, insieme al principio fondamentale dell'eguaglianza economica, politica e sociale, dice che tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese. E quando noi leggiamo quest'articolo non possiamo dimenticare anche quella che io reputo l'unica cosa buona del titolo quinto, il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, nel quale leggiamo che i cittadini liberi o associati possono svolgere attività di interesse generale secondo il principio di sussidiarietà. E' per questo che Lidia Menapace, io, Settis, Montanari ed altri ci siamo mossi per svegliare il popolo, perché non stiamo dormendo sotto l'influenza di una televisione venduta, di una televisione che ci fa capire solo quello che vogliono gli altri. E noi dobbiamo e possiamo risorgere. E se mi sono impegnato fino al fondo delle mie forze per far capire l'insipienza di quella riforma costituzionale voluta da Renzi è perché è nella Costituzione la possibilità di riparare il disastro. E il disastro lo possiamo riparare proprio in via sussidiaria, intervenendo noi direttamente, visto che i governanti non hanno capito che devono fare gli interessi del popolo italiano e fanno gli interessi delle multinazionali, gli interessi stranieri fanno... Noi dobbiamo insorgere contro questa gente, non sul piano della combattività, della rivoluzione, eccetera, ma sul piano giudiziario. Sappiate che esiste nella Costituzione la possibilità di svolgere azioni popolari. E noi dell'Associazione Attuare alla Costituzione abbiamo istituito un gruppo di giuristi affiancato da esperti per fare delle azioni popolari. C'è stato un esempio. Credo che Besosti manco si rende conto che ha fatto un'azione popolare perché Besosti è un grande amico ed è una persona, un avvocato straordinario di intuizione, di capacità avvocatesche incredibile. Lui ha fatto 23 ricorsi in 21 tribunali diversi ed ha ottenuto solo in due tribunali la legittimazione ad agire perché lui portava avanti gli interessi di tutto il popolo italiano. Questo è l'interesse popolare, è l'azione popolare. L'interesse del diritto di voto che deve essere uguale per tutti, non disuguale e deve essere libero, non imposto, e deve essere sovrano, deve appartenere a questa espressione della sovranità. Oh sovranità che oggi ci viene tolta da questa infame legge elettorale, la quale già non ci fa scegliere più gli elettori. Ma chi sono Costoro? Costoro devono lasciare il Parlamento, Costoro devono andare via, andiamo noi in Parlamento e cacciamo via tutti. Io non voglio fare il parlamentare, per carità, ma Costoro non sono i nostri rappresentanti e siccome la Costituzione dice che se i nostri rappresentanti non funzionano la responsabilità passa a noi direttamente. Quindi dobbiamo attraverso i ricorsi ai giudici con azioni popolari dobbiamo fare in modo che tutta questa infamità attraverso una legislazione incostituzionale venga meno. L'azione popolare ci consente di ricorrere al Tarre o al giudice ordinario chiedendo di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l'annullamento delle leggi e le leggi di Renzi sono tutte leggi incostituzionali. Noi popolo dobbiamo portare davanti ai tribunali di tutta Italia sperando che i giudici siano all'altezza del loro compito tutte le leggi incostituzionali. Quella di Monti sul pareggio di bilancio non si tratta di Costituente è legge costituzionale subordinata ai principi costituzionali e può essere annullata anche dalla Corte Costituzionale questa legge costituzionale e poi gli esperti sanno che cosa voglio dire ma comunque dobbiamo portare davanti al giudice tutte le leggi da Berlusconi in poi e vi dico questo guardate che noi dobbiamo chiederci perché siamo arrivati a questo voglio essere rapido e lasciarvi solo qualche idea noi siamo arrivati a questo attraverso un disegno antico nel tempo un disegno che risale agli anni 70 un disegno che è la sua fonte in un libro uscito alla fine degli anni 60 a firma di un certo Milton Friedman è il neoliberismo che si è affermato sotterraneamente il pensiero neoliberista di cui nessuno parla che ci ha trasformato il sistema economico produttivo nel quale noi vivevamo in un sistema economico predatorio e i nostri governanti si sono prestati a questi il primo sapete chi è stato? è stato un professore dell'Università Bocconi Andreatta il quale il 12 febbraio 12 febbraio 1981 vedete com'è vecchia la cosa scrissi a Ciampi governatore della Banca d'Italia che da quel momento il Tesoro non avrebbe più chiesto alla Banca d'Italia di comprare i buoni del Tesoro rimasti invenduti sapete che significa questo il Tesoro quando aveva bisogno di soldi emetteva i buoni del Tesoro a basso tasse di interessi molti buoni del Tesoro restavano invenduti la Banca d'Italia li prendeva e stampava da mare e noi andavamo avanti da quel momento noi siamo dovuti ci siamo dovuti rivolgere al mercato generale il mercato generale ci ha pioppato addosso degli interessi che hanno raggiunto il 25% nell'interesse delle multinazionali e delle banche che bisogna stanarli questi sono i nostri nemici sono quelli che ci portano alla rovina sono quelli ai quali si vendono i politici e questo è il punto centrale è il punto centrale del discorso e da quel momento il debito italiano è schizzato in altro poi ci dice la Merkel voi dovete fare come la brava casalinga Sveva che non spende più di quanto gli dà mese per mese il marito ma la cara casalinga Sveva deve sapere che la nostra la nostra spesa per lo Stato sociale sanità, istruzione eccetera raggiunge il 41% del PIL mentre quello della Germania è nella media europea del 45% e mentre ci sono altre situazioni in cui si arriva al 70-80% come nei paesi scandinavi insomma non è questo non è perché abbiamo consumato troppo è perché la finanza ci ha messo addosso un debito dal quale non riusciamo a uscire e dobbiamo saperlo questo e non dobbiamo avere vaghi sensi di colpa ci stanno portando alla rovina il territorio italiano è stato distrutto completamente e l'acutezza la finezza della finanza sta nel fatto che loro sono riusciti a impossessarsi di tutti gli strumenti che producono ricchezza non è che siano gli aeroplani dell'Italia che valgono sono le rotte aeree che valgono e che ci vogliono togliere non è che valgono i treni di treni Italia o di Italo ma sono è il traffico ferroviario quello che conta e guardate io sono venuto oggi da Roma e l'aeroporto di Roma era pieno di gente quindi c'è una grande richiesta il popolo è stato estromesso da tutto questo e allora scusatemi due minuti ma io vi voglio dire che cosa si intende per sistema economico produttivo quello che ci ha consentito il benessere per 30 anni del secondo dopoguerra e cosa significa sistema economico predatorio che è quello che hanno introdotto in Italia le leggi incostituzionali di cui parlavo prima il sistema economico produttivo è il sistema keynesiano bisogna spandere ricchezza alla base della piramide sociale facendo intervenire tutto il popolo nell'economia non estromettendo il popolo dall'economia distribuendo alla base sociale ai lavoratori più denaro i lavoratori vanno ai negozi i negozi vanno alle imprese le imprese assumono e si crea un circolo virtuoso viceversa da Andreatta in poi i nostri governanti hanno introdotto volta per volta leggi che hanno favorito il contrario cioè l'accentramento della ricchezza nelle mani di pochi secondo il pensiero neoliberista è l'esclusione del popolo cioè dello Stato dall'economia ma come facciamo a pagare le tasse se non c'è più lavoro come facciamo a pagare le tasse se tutte le fonti di produzione vengono date all'estero come facciamo a vivere di turismo se si mettono in Italia gli alberghi stranieri e tutti gli alberghi italiani sono venduti agli stranieri come facciamo a produrre se noi tutti i servizi pubblici essenziali li privatizziamo e li diamo agli stranieri guardate che l'Italia è stata campione delle privatizzazioni la prima privatizzazione è del 1990 e qui mi corre l'obbligo di non fare i nomi altrimenti potrei essere potrei essere indiscreto ma comunque il governo del 1990 ha commesso questa cosa enorme di vendere tutte le banche pubbliche le banche pubbliche sono del popolo italiano perché ci hanno venduto le banche perché hanno venduto le banche pubbliche rispondano ci restituiscono le banche pubbliche perché attraverso le banche pubbliche si fanno si fanno le grandi opere pubbliche nel 1992 dopo l'intervento della regina Elisabetta l'attracco della nave Britannia a Civitavecchia dove salirono a bordo Draghi poi non voglio dire altri nomi perché non sono sicuri ma Draghi è sicuramente salito a bordo il nostro Draghi neoliberista che ci sta portando alla miseria alla distruzione finanziando le banche e togliendo soldi ai lavoratori e considerando i lavoratori come merce e dicendo che fanno bene le industrie che licenziano gli operai ecco queste cose sono avvenute nel 1992 governo del 1992 nove giorni dopo che la regina Elisabetta era venuta con cento delegati della city londinese e a bordo erano saliti i nostri esponenti dell'economia e anche i nostri politici tra i quali ripeto Draghi con decreto legge l'Italia ha venduto l'INA istituto nazionale assicurazioni ricchissima l'ENI quella di Enrico Mattei ricchissima l'Enel ricchissima non abbiamo più niente è l'IRI cioè tutte le industrie pubbliche noi non abbiamo più le industrie pubbliche come produciamo come facciamo a pagare i debiti come facciamo a andare avanti ci hanno tolto tutto quello che era l'industria nostra la nostra produzione c'è stata tolta e le leggi ancora ci dicono che dobbiamo pagare il debito che dobbiamo pagare e poi ci hanno introdotto in ultimo la moneta unica la moneta unica dice giustamente dice giustamente Latouche un grande economista sociologo quello della decrescita ne avrete sentito parlare la moneta unica significa cambio fisso tra i paesi e il cambio fisso significa che il più forte mangia il più debole la moneta unica ci fa mangiare dalla Francia e dalla Spagna e dalla non la Spagna dalla Francia e dalla Germania tutto il settore caseario è stato preso dalla Francia tutto il settore della distribuzione dell'alimentazione è stato preso dalla Francia e quando noi siamo andati a prenderci un pezzettino di un'industria navale francese Macron ha nazionalizzato ma le nazionalizzazioni le dobbiamo fare noi dobbiamo nazionalizzare l'Ilva dobbiamo nazionalizzare dobbiamo nazionalizzare l'Italia e tutte queste situazioni vanno sanate in questo modo noi abbiamo commesso l'errore grave di cedere la sovranità in sede monetaria in campo monetario un errore gravissimo che grida vendetta a cospetto di Dio un errore enorme perché la moneta era nostra adesso abbiamo la moneta a noleggio dobbiamo pagare il fitto della moneta non so se mi spiego e dobbiamo restituire tutto quello che l'infame speculazione finanziaria ci ha posto attraverso i tassi di interesse ci ha posto sulle spalle l'enorme debito pubblico che cresce sempre di più perché ci hanno tolto le possibilità di farlo decrescere perché ci hanno tolto tutte le fonti di produzione tutti gli elementi come dicevo prima che ci possono portare a produrre e a renderci un paese noi però abbiamo tante possibilità abbiamo degli enormi territori abbiamo il più bel paese sotto il profilo paesaggistico abbiamo il più bel paese sotto il profilo dei beni artistici e storici che giustamente sono stati sono stati citati noi abbiamo un grande artigianato noi abbiamo una grande possibilità di sfruttare l'agricoltura torniamo alle nostre radici lasciamo stare questa enormità di rappezzamenti che ci portano alla sottomissione dicevo poco fa degli amici non so se c'era anche il sindaco secondo me noi non siamo nel 2013 siamo nel 1494 quando dopo la morte di Lorenzo il Magnifico che aveva assicurato 60 anni di benessere e di pace all'Italia venne Carlo VIII dalla Francia e conquistò l'Italia col gesso io vedo che l'Italia sta finendo la nostra indipendenza sta finendo e i nostri governanti i nostri rappresentanti politici non fanno nulla per tutelare gli interessi italiani la TAP a chi interessa la TAP interessa i paesi del nord Europa e allora perché deve passare per l'Italia la nostra Costituzione giustamente citata all'articolo 117 dice le grandi reti di comunicazione e di trasporto dell'energia nazionale per gli interessi della nazione dove sta l'interesse nostro perché ci sconvolgono e ci fanno distruggere ulivi e territori per servire il nord e non ci danno niente ma che scherziamo questo è il nostro territorio noi siamo ancora i sovrani di questo territorio perciò noi agiamo per la sovranità popolare e visto che la sovranità popolare non la fanno valere al centro la faremo valere localmente paese per paese popolazione per popolazione e che il connotato di tutti sia questo noi vogliamo tornare alle nostre radici personali vogliamo vivere in pace e ci sentiamo tutti italiani prima che europei e questa Europa non ci serve noi abbiamo bisogno di un'Europa diversa in cui ci sia l'integrazione non in un'Europa in cui ci sia il predominio della Germania su tutti gli altri popoli siamo europeisti indubbiamente ma non siamo tantamente sciocchi da ritenere che questa Europa sia l'Europa che vogliamo questa Europa è un'Europa che serve solo per asservire l'Italia e noi riprendiamo in mano la Costituzione per questa mi sono battuto alla mia notevole età di 81 anni passati perché mi sembra sicuro che solo attraverso la Costituzione noi possiamo riprenderci perché nella Costituzione c'è scritto quello che ha citato per primo il sindaco che è stato bravissimo la sovranità appartiene al popolo ricordate questo la sovranità appartiene al popolo due parole sul piano del diritto e ho concluso il sindaco ha citato giustamente l'articolo 41 della Costituzione e lo voglio ripetere l'articolo 41 della Costituzione dice riguarda i contratti i negozi giuridici i contratti e dice l'iniziativa economica privata è libera bene la legge numero 1 del 2012 di Monti proprio perché dice che l'iniziativa economica privata è libera aggiunge dunque bisogna togliere tutti i limiti e le imprese perché possono agire in piena libertà no signori miei bisogna che Berlusconi e Monti si pentano ben in mente che devono leggere anche il seguito di questo prima linea dell'articolo 41 della Costituzione e il seguito di questo articolo dice l'iniziativa economica è libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale di tutti non può recare danno alla sicurezza e pensate che ci sono dei rischi enormi con il condotto del gas perché poi ci sono le fabbriche di compressione perché per far camminare il gas nei canali bisogna comprimere bisogna farlo andare avanti e se scoppia quello è la fine e perché ci dobbiamo prendere questi rischi per favorire la Germania che ci toglie tutta l'industria per favorire la Francia io ho il massimo rispetto dei francesi in quanto tali e dei tedeschi in quanto tali ho amici in Germania e in Francia ma il governo italiano non è alla pari dei loro governi il governo italiano si fa pecora e noi abbiamo bisogno di leoni italiani non abbiamo bisogno non abbiamo bisogno di pecore che fanno guardate che il governo italiano i nostri rappresentanti anche in Europa nel Parlamento Europeo hanno votato il TTP e il CETA sapete che significa questo? i nostri governanti hanno detto che se gli allevatori e i commercianti americani o canadesi che siano trovano ostacoli nelle nostre leggi a tutela dell'ambiente e della salute hanno diritto al risarcimento del danno e chi decide sul risarcimento del danno un arbitro nominato da loro stessi poi nel CETA si dice non un arbitro ma un organismo composto tra i vari stati insomma il concetto è questo se l'Italia vuol difendere il proprio territorio e questo il governo Lenzi lo ha fatto approvare lo ha fatto approvare e adesso è in corso di ratifica il CETA guardate che è in corso di ratifica in Parlamento il CETA e questo governo vuole attuare il CETA il CETA significa lo strozzinaggio finale dell'Italia perché dovremmo il legislatore dovrebbe prevedere che in ogni legge di tutela dell'ambiente della salute bisogna prevedere una somma enorme perché arrivano gli investitori americani o commercianti americani e chiedono il risarcimento del danno dovuto al fatto che non hanno venduto le loro merci perché avariate perché drogate perché impedite la vendita dalle norme a tutela della nostra salute signori ci stiamo giocando il territorio l'ambiente e la vita nostra e dei nostri figli e delle generazioni future e scusatemi se concludo leggendo quello che è stato il fulcro del primo mio testo io ho scritto due testi che mi sembra importante ripetere qui il primo testo l'ho scritto dopo tre anni di pensionamento da quando ho lasciato la Corte Costituzionale del territorio bene comune degli italiani il territorio non è degli arabi o dei turchi o dei Azerbaijani ma è italiano è degli italiani il territorio e appartiene il territorio agli italiani a titolo di sovranità non per legge a titolo di sovranità e poi ho scritto un altro volumetto facilmente leggibile ma abbastanza denso gli inganni della finanza nel quale è precisato questo editore non dico l'editore se non sembra che voglio fare fare propaganda al mio libro in questi testi ho messo in evidenza una cosa importante l'articolo 41 della Costituzione con questo 42 della Costituzione e con questo articolo concludo articolo 42 della Costituzione mettetelo ben in mente dice la proprietà è pubblica e privata che significa pubblica significa che appartiene che proprietà collettiva demaniale noi siamo eredi di una cultura borghese che ha cancellato l'idea della proprietà collettiva a favore della proprietà privata e attraverso la proprietà privata le grandi industrie si stanno prendendo tutto e guardate che a questo proposito mi sovviene in questo momento quello che disse Benamino Roosevelt al congresso in una relazione del 1938 una democrazia non è salda se consente ad uno dei suoi membri di diventare più ricco dello Stato democratico pensato oggi la democrazia mondiale non è salda perché consente a pochi di diventare padroni del mondo e noi questo non lo possiamo tollerare e ce lo dice la nostra Costituzione vedete quando si dice che la Costituzione è bella la Costituzione è completa e la Costituzione è atemporale varrà per sempre se si vorrà una Costituzione quella dovrà essere simile alla nostra perché la nostra Costituzione come i versi di Omero o di Esiodo di tanti secoli fa è fondata sulla dignità dell'uomo sul sentimento dell'uomo sul valore sul valore dell'uovo e sul progresso materiale non solo materiale come vorrebbero i neoliberisti che ci vogliono portare tutto a materia e a mercificare anche la persona umana materiale ma anche spirituale della società questi sono i fini della nostra Costituzione e finiamo di leggere questo è il primo comma nel quale si distingue allora la proprietà pubblica dalla proprietà privata la proprietà pubblica è la proprietà collettiva demaniale cioè la proprietà di tutti e sono i beni fuori commercio secondo la definizione di Gaio mentre invece i beni commerciabili come seguita il primo comma il primo a linea del comma 42 dice che i beni economici possono appartenere allo Stato a enti o a privati cioè a dire la sedia la scrivania l'automobile il vestito possono appartenere indifferentemente o al pubblico o al privato ma quello che conta è che c'è una netta separazione tra le resti in commercio e le resti extra commercium le cose di tutti il territorio non si vende Berlusconi l'ha fatto vendere Berlusconi l'ha fatto vendere i beni demaniali il decreto legislativo numero 85 del 2010 dice che i demani marittimo idrico culturale e minerario passano alle regioni le quali li valorizzano e li vendono a privati ed è quello che sta avverendo abbiamo venduto una quantità enorme l'isola bella delle olie l'isola del Budelli della Maddalena il monte Cristallo sopra Cortino d'Ampezzo il monte delle Tofane sopra Cortino d'Ampezzo ampi strati di ampi pezzi di spiaggia corrispondenti ad alberghi lungo tutto il litorale di 8.000 km di spiagge che abbiamo in Italia abbiamo venduto un'immensità enorme di beni artistici e storici a cominciare dalla zecca monumentale di Piazza Verdi a Roma dalla casina Valadier del Pincio e nessuno sa niente stiamo vendendo a rotta di collo perché guardate il meccanismo il meccanismo economico predatorio del neoliberismo pensiero unico dominante passa attraverso tre momenti creazione del denaro dal nulla derivati e cartolarizzazioni che sono delle scommesse che secondo Perlusconi valgono per pareggiare i conti dei comuni ma pensate un po' si pareggia il conto di un comune e io vado a giocare dei numeri all'otto dico questo dovrei vincere se escono questi numeri 100 milioni tu metti e pareggi il bilancio con i 100 milioni che io ho giocati ma questo è assurdo ma chi ci hanno preso per scemi ma che siamo idioti siamo tutti idioti ci siamo reimbicilliti tutti quanti i derivati sono tossici e non possono pareggiare le banche che poi noi dobbiamo salvare dopo come abbiamo fatto per il Bonte Paschi di Siena per ben due volte e adesso sappiamo della banca Etruria e di altre schifezze di questo genere e poi guardate vediamo ben presente che le privatizzazioni hanno portato a una rovina totale perché adesso oltre ai beni dei maiali si stanno svendendo ne ho fatto cenno quelle che sono le fonti di ricchezza i servizi pubblici essenziali e la Costituzione e le fonti di energia la Costituzione all'articolo 43 dice che lo Stato e deve essere in mano pubblica le fonti di energia o in mano di comunità di lavoratori e di utenti con questo siamo tornati a quello che dicevo all'inizio e con questo chiudo perché guardate tutto nelle nostre mani vi ho fatto un quadro fosco lo so ma vi ho detto delle verità inconfutabili però vi dico pure che in base alla Costituzione se ci uniamo noi ce la possiamo valere grazie a cittadini di Melendugno grazie italiani grazie a tutti